Una coppia modello, stasera su Rai 1. Trama e cast del film Una coppia modello, questa sera su Rai 1. Il cast e la trama del film. Stasera su Rai 1, in prima serata a partire dalle 21.25, subito dopo la puntata di Teche Teche, andrà in onda il film in replica della serie Purché finisca bene, una coppia modello. Il film del 2014 vede, tra i vari attori protagonisti, Bianca Guaccero, Daniele Pecci, Sergio Assisi, Chiara Ricci e Simona Marchini. Una coppia modello racconta le difficoltà che si incontrano in un rapporto di coppia, parla della solidarietà che può trasformare il proprio nemico nel miglior alleato possibile. Il giorno dell'udienza di separazione in tribunale, Enzo, il marito gentile e sensibile, tradito da sua moglie Ada, conosce Adriano, il classico traditore, simpatico e bugiardo, portato in tribunale dalla moglie Valeria che lo accusa di essere infedelle. Al termine delle rispettive udienze, i due uomini si incontrano al bar confidandosi. Il primo è disperato vedendo il suo matrimonio che sta fallendo, il secondo invece è sicuro e non ha dubbi, lui sa come poter conquistare nuovamente Valeria. Una coppia modello, la trama del film in onda stasera su Rai 1. Una coppia modello è il film che Rai 1 riproporrà ai suoi telespettatori in prima serata oggi, giovedì 24 agosto. Dopo l'incontro tra i due uomini al bar, le cose non vanno proprio come avevano previsto. Adriano si sbaglia e sua moglie non ha nessuna intenzione di perdonarlo per i suoi tradimenti. L'uomo non ha un soldo e un tetto per dormire, così si presenta a casa di Enzo chiedendo di essere ospitato. La convivenza tra i due si rivela difficile ma il desiderio di riconquistare le proprie mogli li spinge a collaborare. Ognuno sarà un messaggero d'amore con la moglie dell'altro. Le cose non vanno nel verso sperato. Le loro vite, a causa di diversi equivoci, diventano ancora più complicate, soprattutto quando Rietta, la madre di Enzo, scopre che suo figlio convive con un altro uomo. Grazie a tutti per aver guardato il video.